Siamo andati a trovare, motore rosso, niente da fare per i grandi superstiti, partono questa volta, precisi, perfetti, più meloni alla grande, ma Erminio Forni al vertice della gara, poi andiamo a vedere. Abbiamo Alessandro, Alessandro Gallotta con Alessandro, Alessandro Gallotta ce la fa in quinta posizione, e poi andiamo, Barbieri va a conquistare la seconda piazza, quindi Forni, Barbieri, Fisperoni, Alessandro Gallotta, poi Musette Ferrari e Guglielmo Dilde in ultima posizione, per il momento, siamo a metà del primo dei cinque giri. Andiamo poi a vedere, intanto, la griglia del Divisione 3, Manche A, Guzmeroni all'attacco di Barbieri. All'attacco di Barbieri. In uscita, in cassa la parte, non riesco a passare l'arriere. Era già quasi passato, ma non è riuscito a inserire la testa. In uscita, dal Don Nandone, sta a pigiando il Guglielmo Dilde con una raggia infinita. Alessandro Gallotta, all'attacco di Barbieri. Non riesco a passare, forse, sempre più forse, finalmente, per l'attacco di Barbieri. Alessandro Gallotta, all'attacco di Barbieri.